bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi ho veramente un bel po di novità di cui parlare per quello che riguarda il futuro di fortnite andremo avanti ovviamente con l'argomento apple versus fortnite ci sono dei piccoli aggiornamenti che vi voglio dire ma vi parlerò anche del nuovo regalo che sta per arrivare a tutti e di tante novità anche riguardanti ovviamente la season 4 prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi ed è un argomento molto interessante perché riguarda veramente un sacco di argomenti argomento numero uno c'è una nuova mini quest che vi darà 14 mila punti esperienza e che di nuovo comprenderà un interazione del personaggio con la navicella spaziale voglio farvi vedere questo spezzone video in modo che potete capire benissimo la posizione come vedete ragazzi dalla mappa siamo proprio qua in basso sotto brughiere vicino alla discoteca esattamente lì sotto alla montagna ragazzi troverete la navicella spaziale vi basterà molto semplicemente avvicinarsi con il personaggio e completare la seconda mini quest che appunto come vi anticipavo ci darà ben 14 mila punti esperienza perché è veramente ragazzi interessante questa cosa perché dobbiamo un attimo pensare un po più al di là mi spiego meglio che senso ha che epic games abbia voluto inserire questa navicella e ci stia dando queste mini quest per ottenere anche i punti esperienza potrebbe essere qualcosa relativo alla prossima season effettivamente noi non abbiamo nessuna informazione per quanto riguarda un possibile evento ma abbiamo ad esempio un'informazione che per chi non si era accorto la navicella spaziale era già stata presentata nel trailer della season x insomma l'ultima season ragazzi prima di passare al capitolo 2 anche questo fatto è veramente molto curioso perché ormai parliamo dell'anno scorso e quindi molto probabilmente potrebbe davvero esistere un collegamento tra siona e la sua controparte maschile la navicella spaziale la season x che appunto ha contribuito alla svolta di dei capitoli di fortnite e dell'evento io sono convinto ragazzi che qualcosa c'entra purtroppo non ci hanno dato nessuna informazione e oramai il tempo è veramente agli sgoccioli perché mancano solamente otto giorni alla season 4 io credo che sia da escludere il discorso tor altrimenti avremmo già capito qualcosa l'unica cosa che sappiamo è l'apparizione dei due rift in cielo negli ultimi giorni quindi navicella spaziale rift in cielo c'è anche un'altra cosa molto curiosa voglio farvi vedere quest'altro spezzone video ragazzi perché per chi non fosse ancora entrato in creativa beh guardate un attimino come hanno messo la lobby della modalità creativa io sinceramente mi sento di dirvi che credo possa centrare anche qua con la navicella spaziale è un paesaggio futuristico sicuramente molto molto particolare curato nei minimi dettagli e che non so voi ma me dà l'impressione appunto che ci stia benissimo con siona e la sua controparte maschile quindi ovviamente ragazzi staremo a vedere se per caso ci abbiamo preso con la navicella spaziale voi intanto andate a fare la missione portatevi a casa 14.000 punti esperienza e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come vi anticipavo si va avanti ovviamente e chissà per quanto si andrà avanti con questo processo tra fortnite ed apple per tutti quelli che vogliono avere una rinfrescata guardino i miei due video precedenti in modo che vi spiego proprio quello che è successo arrivano delle notizie queste sono direttamente sudamericane le andiamo a vedere ovviamente tradotte apple ha detto che non farà un'eccezione per fortnite sapete che gli hanno tolto fortnite dall'app store ritengono che non sia corretto anteporre i propri interessi commerciali alle linee guida che tutelano i clienti dell'app store però apple dice anche nel mandato che ha proposto appunto come risposta a quello che ha fatto epic games hanno anche detto che apple vuole riavere fortnite nell'app store io credo che qua ci sia veramente uno scontro tra tori mi spiego bene apple ha delle linee guida che sono così ragazzi quindi non esiste che torni indietro sui suoi passi e non è anche possibile che faccia faccia un'eccezione per epic games per epic games non si può andare contro le linee guida dell'app store e farla franca vorrebbe dire che lo possono fare tutti quindi su quello no c'è da capire un attimino siccome si è visto come apple rivoglia fortnite nel suo app store e ovviamente non ha interesse a bloccarlo continuativamente come deciderà di comportarsi anche perché vi ricordo c'è un fatto veramente molto importante se non si trova entro il 27 agosto una soluzione non sarà possibile per i giocatori di ios e molto probabilmente anche i giocatori da mac di utilizzare la season 4 di fortnite e non solo come vi anticipavo ieri non vogliono neanche far più gli aggiornamenti sulla real engine quindi il motore grafico dei giochi di epic games fortnite borderlands sea of tives star wars jedi saga e tanti tanti altri quindi ragazzi anche qua credo che sia veramente una cosa che ogni giorno rilascerà delle notizie voi non perdetele se volete saperle e incrociamo le dita in modo che fortnite sia disponibile per tutti andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa è una delle mie schermate preferite in assoluto season 4 non vuol dire solamente nuova season ma vuol dire anche fortnite mers ragazzi uno degli eventi più sentiti da epic games più sentiti dai giocatori e personalmente la parte dell'anno che più mi piace dedicata a fortnite ho avuto la fortuna di vivere tutte tutti due fortnite mers che hanno fatto quindi parliamo del lancia zucche quindi parliamo di della mappa che a volte rimane a tema di halloween parliamo dell'arrivo degli zombie questa volta ragazzi ci saranno sicuramente delle quest perché sono sicuro di questo perché hanno trovato dei suoni dedicati al fortnite mers che potrebbero essere utilizzati quest'anno nelle quest quindi nelle sfide che daranno dei regali voglio farveli sentire ovviamente datemi solo un secondo ed eccoci qua che diamo un po di volume e sentite un po attenzione che pompa è attenzione quindi ragazzi davvero tanta tanta roba anche qua speriamo che non ci deludano ma sono sicuro che non sarà così e andiamo avanti prima di salutarci a parlare dell'ultimo argomento di oggi perché il regalo che vi avevo anticipato arriva direttamente per tutti i possessori di salva al mondo ragazzi trovate tutto l'elenco delle novità sulla pagina ufficiale di epic games nella sezione delle notizie ma quella che ci interessa è proprio questa Queen si mette in marcia per la parte 3 il 29 agosto alle ore 2 italiane Queen torna alla stazione radio per trasmettere la parte 3 della sua canzone dell'estate carica il furgone e raduna il gruppo è ora di mettersi in marcia con un nuovo modificatore per sbloccare oro, biglietti e una nuova schermata di caricamento quindi la schermata di caricamento ovviamente la state vedendo in questo momento è sicuramente un regalo gradito che è un peccato perdere perché comunque a me personalmente piacciono tantissimo i loading screen che arrivano su Fortnite quindi ragazzi radunate i vostri amici per giocare a salva al mondo dateci dentro e sbloccate non dovrebbe essere assolutamente difficile la schermata di caricamento abbiamo ancora tempo per velocemente vedere l'ultimo argomento di oggi che sono le sfide che poi approfondiremo con calma domani della settimana numero 10 ultima settimana ve le lascio guardare a voi senza neanche commentarle e mentre le guardate io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video news mi raccomando non dimenticate un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su Twitch ciao 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 ciao